Brutte notizie, così come ho annunciato in questo mio video appena pubblicato sul mio terzo canale YouTube, vi metto il link in descrizione, questa notte è iniziata la guerra tra Russia ed Ucraina. La conseguenza immediata sul prezzo di Bitcoin è stato questo calo, fino circa alle tre e mezza di questa notte era ancora attorno ai 37.000 dollari, invece è sceso sotto i 35.000, ha toccato i 34.300 dollari. Ancora più interessante ed esemplificativo però è il grafico del prezzo dell'oro, vedete stanotte era già risalito fino a 1.915 dollari e schizzato fino a 1.948, poi più o meno si è stabilizzato su 1.941. Tenete presente che questo livello è in assoluto non solo il più alto dell'ultimo mese, non solo il più alto degli ultimi sei mesi ma anche il più alto dell'ultimo anno perché il picco massimo era stato raggiunto a giugno del 2021 ma solo a 1.907. In questo momento l'oro è davvero molto alto, per trovare un valore simile bisogna risalire addirittura fino a novembre 2020, cioè in piena pandemia. Però in realtà ci sono altre due cose da notare sul grafico del prezzo di Bitcoin. La prima è che non è che è crollato questa notte, cioè è passato da 37.000 a 34.000. Se risaliamo più o meno a un mese fa, il valore attuale è quello di fine gennaio, tra l'altro fine gennaio era sceso fino in realtà a 33.000, quindi oggi non è crollato Bitcoin. Inoltre il livello attuale è molto vicino al bottom storico, cioè la linea di base di cui parlavo in questo mio precedente video, di cui vi metto il link in descrizione. Quindi cosa è accaduto stanotte? È accaduto che a causa di eventi esterni tutti i mercati finanziari, compreso Bitcoin, sono andati in crisi, ma il prezzo di Bitcoin semplicemente si è appoggiato sulla linea del minimo storico. Ora il punto è che se dovesse scendere sotto questa linea la cosa potrebbe farsi preoccupante. Tenete però presente che era già sceso una volta sotto questa linea a marzo 2020, quando crollarono tutti i mercati a causa della pandemia e dei lockdown, a causa di quello che possiamo chiamare un cigno nero. Quello attuale potrebbe essere un altro cigno nero nel caso in cui la guerra si allargasse. Finché rimane una guerra tra Russia e Ucraina non lo possiamo chiamare un cigno nero, ecco che se invece la guerra si allargasse, cioè entrasse ad esempio in guerra anche la NATO a favore dell'Ucraina, ecco che quello sarebbe un cigno nero e quindi il prezzo potrebbe scendere ancora. Faccio notare che la borsa di Shanghai è aperta e stanotte ha fatto questa discesa, che non è tanto diversa dalla discesa del prezzo di Bitcoin. Stessa cosa la borsa di Hong Kong e quella di Tokyo. Quindi oggi sono in sofferenza tutte le borse, io vi ho fatto vedere quelle che sono già aperte, probabilmente quelle europee all'apertura faranno la stessa cosa e forse nel pomeriggio anche quelle americane e quindi anche Bitcoin in sofferenza come tutti gli altri asset. In questi casi solo l'oro prende di valore perché è considerato un asset risk off, cioè senza rischio, contro il rischio. Tenete anche presente che qualcosa di simile accade a marzo 2020 prima del crollo definitivo che portò il prezzo di Bitcoin tra l'altro a livelli bassissimi, a 4.000 dollari. Quindi siamo in una situazione in cui le cose potrebbero in teoria ancora peggiorare, bisogna seguire quello che sta accadendo. Per questo motivo vi invito ad iscrivervi al mio terzo canale YouTube, vi metto il link in descrizione, dove per l'appunto do tutti gli aggiornamenti in particolare per quanto riguarda la crisi in Ucraina e la guerra della Russia contro l'Ucraina, che è il vero motivo per cui in questo momento i mercati finanziari sono in forte crisi. Un'ultima cosa, tenete presente che la crisi in Ucraina e la guerra non è affatto finita, anzi è appena iniziata. Un saluto, ciao!